Quattro responsabili tratti in arresto, un denunciato a piede libero e due tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate. Questo è il bilancio di una vasta operazione anticontrabbando portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno effettuato un accesso presso un complesso di capannoni situati a Castelvorturno, sorprendendo i contrabbandieri in fraganza di reato. L'ingente carico, due tonnellate di sigarette marchio Winston, aveva raggiunto il punto di stoccaggio a bordo di un auto articolato di una nota ditta di trasporti. Al fine di rendere maggiormente credibile l'ingegnosa copertura e destare il meno possibile l'attenzione delle forze di polizia, il soggetto che trasportava il prezioso carico si è preoccupato anche di indossare una tuta d'operaio della stessa ditta. Quando i finanzieri sono penetrati all'interno della struttura hanno sorpreso i contrabbandieri mentre caricavano le bionde che erano giunte a bordo del camion su due furgoni. Nella circostanza sono stati tratti in arresto quattro contrabbandieri, un 59enne pluripregiudicato, due 31enne di Napoli incensurati, un 56enne di Napoli residente a Latina con precedenti per furto aggravato, sanzionati anche per aver violato le disposizioni nazionali e regionali anti-covid. Un quinto uomo, un 41enne napoletano residente a Castelvorturno con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato a piede libero. L'operazione è frutto della costante attività di presidio economico del territorio, spesso sottovalutata del contrabbando di sigarette nell'economia illecita e la sua pericolosità per la salute causata dall'immissione sul mercato clandestino di prodotti oltremodo privi di ogni tipo di controllo.